ok spero che sia registrato si è perché è la seconda volta che sta registrando questo video perché mi si era fermata la videocamera brava bricky che non hai iniziato manco a registrare il video come ho parlato per dieci minuti e si è fermata o anche come non stavo a registrare non so perché allora ciao ragazzi bentornati in questo bellissimo video oggi siamo in un video in cui vi parlerò del motivo in quel video la cosa che si chiamava saluto a tutti non si è sentito bene come non si è sentito un cacchio del video dell'altro giorno che era dell'altro ieri non ricordo perché questo video quello carico domani che oggi è l'8 domani è il 9 quindi un disastro allora vi chiedo subito 10 mi piace 10 no se raggiungiamo i 15 mi piace in due settimane io farò ogni giorno e di ogni giorno non sto dicendo scavolata ogni giorno video vlog pgb battle royale butterstrike minecraft di tutti i tipi challenge ogni giorno se raggiungiamo i 15 mi piace in una settimana una settimana per lasciare il 15 mi piace dai sono tanti sono ormai chiesti 15 mi piace però è giunta l'ora di lasciare quel mi piace se volete ogni giorno anche due video al giorno qualche volta ogni giorno video sul canale dunque iniziamo con la sigla ok allora dopo aver visto la sigla qualche volta scusate marco qualche volta appariranno qua e qua delle immagini di blocchi con il segna di tic toc che sarebbe che non trovate sempre tu ringrazio che se se non mi seguite cosa fate nella vita seguitemi su music.ly che vi dà tutte le notizie del canale così ho dato un seguito dopo tipo ho creato con un app se volete un tutorial nei commenti perché non posso dare tempo un tutorial non su micr però su tipo editare fare un disastro potrei aggiornare la serie con l'ora di come fare la mia serie però è un po' tra professe perché ho un po' di video adesso vi chiedo subito di lasciare il 15 mi piace come ho già detto prima che ogni giorno qua se lo aggiungiamo in una settimana 15 mi piace e ve li chiedo e anche 10 commenti va allora 10 commenti e 15 mi piace speriamo di raggiungerli perché se volete anche condividere il video perché come i vostri amici se non sono ancora iscritti li potrebbero vedere mi piacerebbe piacere il contenuto che ho portato nel canale sarebbe perfetto allora voglio parlare perché non ce l'ho sentito nel video scorso saluto tutti che forse vi riterò qua allo screenshot ma non lo so allora questo qua è dal programma la waterproof case della gopro dell'action camera come dovete chiamarla non ha i buchini e i fodi quelli là per il microfono e non dovrebbe averci perché è una waterproof che protegge dall'acqua se ha i buchi si bagna l'acqua però però io cercherò di andare all'unieuro alla med world di comprare una case di gopro ma non è una waterproof però come la incasti qua dentro si mette anche un vetrino dietro e che ha i buchi a lato perché io ho un microfono qua qua e mi sembra qua sopra non mi ricordo ma anche qua sotto però non so come sia possibile mettere là un microfono e si volevo parlare perché avevo la waterproof che devo urlare così per fare quel video là dopo mi sono messa a urlare così o a parlare così quindi non si è sentito più niente come parlo di solito in uno dei miei video perché non faccio non nullo io di solito in un video quasi quando mi intacchio si però non è che ci sono molti video in cui mi intacchio se tiro di questa voce qua nell'altro video non si sentiva niente forse anche in questo qua non si sente mi sembra che ho sentito un ginice volare però che non so allora questo qua è del problema cercare di comprare anche un'altra batteria per la action camera perché non dura quasi niente quando registro tanti video e anche perché forse a dicembre a natale andrò in macedonia e vedrete per il primo prima volta se venite dalla macedonia e siete già andati non è proprio per chi sa già come è fatta la macedonia non prendetevela con me perché forse questo a natale o anche a capodanno andrò in macedonia e farò tipo di sera due settimane e farò ogni volta ogni giorno vlog mi prenderò per scema ai miei zii e cugini perché non so ancora che io sono nel youtube perché ha più di 100 iscritti però non capiranno mai perché ho la gopro sempre via intanto la gopro te la metti in tasca quando devi registrare qualcosa te la accendi inizia a registrare si mi dispiace tanto se non si è sentito tanto in quel video perché vi spiegavo delle cose intanto qua dovrò svitarlo quando comprerò la custodia che costa non ho ancora comprato non ho ancora controllato quanto costa e volevo dirvi anche che se raggiungiamo allora in un giorno dobbiamo raggiungere i 5 mi piace però in una settimana 15 mi piace che sono più difficile e ai 5 mi piace cercare di caricare il 12 che è lunedì il video di minecraft della serie principale che durerà tipo 12 minuti 14 minuti però ne valerà la pena per voi perché io faccio tutto per voi mantengo le pronunze se arriviamo ai 200 iscritti io metterò nello shop le magliette quindi se volete le magliette le felpe più avanti tipo alle 250 le felpe hai 200 le magliette mia con la scritta perché è 45 troppo gang se volete uno spoiler andatevi a vedere le felpe in arrivo che ha raggiunto i 65 visualizzazioni e i 12 mi piace in un giorno vi ringrazio tanto per quel supporto che avete lasciato in quel video là perché parlavo delle felpe e dello screenshot che avevo lasciato da a porco schifo vaffancina aaaaaa nuovo clickbait no il tigro clickbait mi sono dato un dito mentre che stavo facendo un video no scherzo mi sono fatta soltanto leggermente ma volete altri vlog o altri video in cui parlo di queste cose 5 vi piace e carico la serie principale e ai 15 mi piace carico ogni giorno video quindi sarà un po' un delirio per me fare ogni giorno video perché dovrei editare lo stesso giorno o lo stesso momento che avevo fatto il video però lascia mostrare questo commento cercherò di arrangiarmi quindi lasciate subito 5 mi piace entro in un giorno e 15 mi piace entro una settimana lo vedrò perché io conto tutto ci tengo a voi e spero che lasciate tutti i miei commentate commentate con con i suoi continui iscriviti al canale asciugami a con il tuo canale e seguitemi sui miei sui miei lecce che vengono 5 metterò qua lo screenshot del nick e iscrivete nei canali in descrizione che ve li lascio sono tutti quelli la che conosco quelli la che seguo io e anche musica e tutto lo trovate in descrizione ciao ciao